Buongiorno al 177, l'orchestra al microclimo del treno di Scrivono con un brano veramente che ancora suona qui insieme da tutte le orchestre d'Italia. Ora riprendiamo con le mani, vediamo un po' se lo riconosciamo. Vai! Scrivono con le mani, vediamo un po' se lo riconosciamo. Scrivono con le mani, vediamo un po' se lo riconosciamo. Scrivono con le mani, vediamo un po' se lo riconosciamo. Sumalo sulle mani, sulle mani, va vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Grazie a tutti.